Con la scorta d'onore al Cristo morto da parte del personale della prefettura dell'Aquila, si è rinnovata la solenne processione del venerdì santo del capoluogo. Tra le strade ancora puntellate del centro storico hanno sfilato i simulacri di Remo Brindisi, raffiguranti il percorso della passione di Cristo. Il vescovo Monsignor Petrocchi, nell'Omelia, ha parlato del dolore degli aquilani, del tremore delle anime, come quello della terra, sintetizzato nella storia di Gesù Cristo. E di lì a poco sarebbe ritornata la passione, con la scossa delle tre diciotto. Per la processione aquilana si è rinnovato il clima di mestizia, austerità e silenzio, previsto dal regolamento della processione dei cavalieri del venerdì santo, che ha ben sposato la latitanza della città. Pochi cittadini infatti a fare da pubblico alla processione, ricca invece di partecipanti, portatori dei 14 simulacri realizzati da Brindisi nel 1954, ancora gioielli dell'arte contemporanea.